torna il cicap fest giunto alla sua quinta edizione torna dal 3 al 5 giugno a padova naturalmente e quest'anno il festival della scienza e della curiosità organizzato dal cicap con l'università di padova il comune di padova la provincia la regione e tanti partner istituzionali che ci aiutano e ci sostengono per realizzare questo grande festival torna guardando al futuro guardando in avanti lo scorso anno ricorderete ci siamo occupati proprio di come navigare l'incertezza che ci accompagna sono stati e sono ancora anzi degli anni davvero difficili e pieni di incertezze di imprevisti lungo la nostra strada e imparare a convivere con l'incertezza è qualcosa che ormai dobbiamo avere dato come fatto assodato non possiamo pensare di vivere in un mondo fatto di di episodi e di percorsi limpidi sereni e pieni di certezze perché la vita non è fatta così e allora guardiamo avanti proviamo a guardare avanti nonostante tutto e cerchiamo di capire come potrà essere il nostro futuro e al cicap fest lo faremo interrogandoci su questi temi in particolare su alcuni ambiti quello dell'ambiente fondamentale la l'emergenza climatica no ci chiederemo cosa sarà dei nostri dei nostri boschi dei nostri oceani dei nostri ghiacciai come si potrà intervenire come si potranno ridurre quali sono effettivamente le l'impegno e le così le strade le strategie attuate oggi da tutti i paesi in giro per il mondo per ridurre il riscaldamento globale ci interrogheremo su quelle che sono poi le innovazioni che attendono alla salute come ci cureremo di fronte a nuove malattie che potranno arrivare nuove pandemie magari come ci prepariamo a tutto questo quali saranno le cure che per i grandi mali anche che ci accompagnano che arriveranno nel futuro ci chiederemo poi quali sono anche le innovazioni tecnologiche non solo che ci aspettano come saranno le città del futuro come saranno gli spostamenti come sarà la comunicazione stessa ci chiederemo come coltiveremo il nostro cibo nel futuro in un modo più razionale in un modo che cerchi di soddisfare le esigenze di tutto il pianeta e non solo di una parte come affronteremo la disparità da questo punto di vista e ci interrogeremo con grandi esperti tra poco vi darò anche qualche nome ma l'interrogarsi sul futuro riguarda davvero tanti ambiti pensiamo a quello dei robot che sono una innovazione che ci accompagna ormai da tempo ma che sarà sempre più presente come convivremo con i robot e poi noi stessi saremo in qualche modo sempre più aiutati dalla tecnologia nel riparare delle parti malate del corpo con nuove tecnologie diventeremo ovviamente è una domanda retorica diventeremo quasi dei cyborg degli incroci uomini robot e nello spazio cosa succederà dove andremo dove arriveremo che cosa scopriremo soprattutto incontreremo mai finalmente realtà o vita extraterrestre al di fuori del nostro pianeta insomma i temi sono tanti ci sono poi naturalmente dei classici perché al cicap quello che ci interessa poi moltissimo è condividere gli strumenti per ragionare in maniera critica per farsi domande e per capire come l'informazione spesso ci può portare fuori strada quindi questi temi saranno affrontati con grandi esperti dell'informazione e in particolare di come funziona la disinformazione anche con approfondimenti su quello che sta succedendo in questo momento e la disinformazione in tempo di guerra e dunque come si contrastano le bufale le fake news come si riconoscono è un ambito è un campo nel quale il cicap è da sempre impegnato e lo è sempre di più naturalmente tratteremo anche il tema della disparità di genere di come sia difficile no perseguire una carriera scientifica spesso per per le donne e quindi cercheremo di capire invece come incoraggiarla come favorirla e come superare gli stereotipi tra i temi che naturalmente affrontiamo al cicapest come sapete appunto abbiamo visto sono tanti sono seri sono importanti ma la cosa bella se possiamo dire del cicapest è anche il fatto che quando è possibile ci piace sorridere parlare di scienza e farlo in una maniera anche piacevole quindi saranno tante le occasioni di incontro con laboratori workshop giochi dimostrazioni spettacoli ci sarà un'intera serata per sorridere dedicata proprio alla stand up comedy con tanti artisti tante artiste che vengono al cicapest e condividono tutti i nostri obiettivi e li avrete visti e in televisione tantissime volte e ci faranno sicuramente molto molto ridere ci saranno i nostri amici prestigiatore che ci faranno vedere come è facile lasciarsi ingannare e ci insegneranno anche come imparare questi giochi in un workshop speciale ma dicevo che ci sono dei nomi davvero importanti come tutti gli anni insomma al cicapest quest'anno grazie anche al fatto che il festival del cicap rientra tra i festeggiamenti per gli 800 anni dell'università di padova ci sono degli incontri particolari uno di questi con sir michael marmot il direttore del ucl institute of health equity di londra cioè che si interessa proprio della della disuguaglianza nell'accesso alle cure no mediche nel pianeta e come si può rimediare tutto questo un altro ospite speciale è il direttore dell'istituto di scienze dell'havana a cuba michel valdes sosa ma tra gli altri ospiti ci sarà simonetta di pippo che l'astrofisica che conosciamo già direttrice del volum mano all'agenzia spaziale europea direttrice dell'ufficio delle nazioni unite per gli affari dello spazio extra atmosferico lei ci racconterà un po che cosa ci possiamo aspettare dalla ricerca spaziale del futuro e del presente michael man invece il climatologo anche lui un'altra celebrità ci aiuterà a capire come stiamo affrontando le emergenze climatiche cosa possiamo fare ancora edith wither l'oceanografa leggendaria no che ha ispirato cameron il regista per i suoi film tante volte ci racconterà invece dei mari quello che sta succedendo nel mare e nelle profondità del mare e così via insomma gli ospiti internazionali sono tanti lee mckintyre filosofo della scienza ci aiuterà a capire come parlare con chi nega la scienza con il negazionismo scientifico che caratterizza tante persone purtroppo oggi e poi ci torneranno a trovare ci saranno tante personalità tanti ospiti amiche e amici che ci accompagnano sempre a partire da piero angelo naturalmente telmo pievani che chiuderà addirittura il festival con un intervento sulla serendipità come le scoperte scientifiche spesso arrivino da dove non ce lo aspettiamo che è un augurio che noi ci facciamo soprattutto per per quelle scoperte che ci servono ancora per affrontare le tante emergenze che ci sono nella vita e nel pianeta insomma un festival davvero ricchissimo sono più di 120 appuntamenti in tre giorni dal 3 al 5 giugno come dicevo concentrati in particolar modo il 4 il 5 sabato e la domenica che copriranno il centro sicuramente no palazzo del bo palazzo moroni lo stesso liston ci sarà il divano di ruggero rollini dove intervisterà in piazza gli ospiti i relatori del fest ci saranno uno spazio davanti al caffè pedrocchi dove i ricercatori risponderanno alle domande sul futuro in 15 minuti di fronte ai passanti quindi formule nuove piazza remitani ci sarà un palco dove si terranno tutto il tempo incontri molto speciali con ospiti davvero davvero sorprendenti come come vedrete e se andate al sito ccaffes.it potete scoprire tutto il programma come dicevo ci sono più di 160 ospiti quest'anno potete trovare tutte le loro biografie potete scegliere il percorso che volete seguire quest'anno una parte degli incontri sarà anche trasmessa in streaming sarà possibile seguire alcuni degli appuntamenti da casa per chi non si può spostare il grosso però naturalmente sarà in presenza e sono tanti questi incontri e sono tanti gli spazi proprio perché se guardiamo come è andata negli anni negli anni passati in particolare l'anno in cui c'era una partecipazione totalmente libera no il 2019 abbiamo registrato più di 25 mila presenze poi c'è stato il covid e l'anno scorso abbiamo iniziato a riaprire un pochino già c'erano molte migliaia di persone quest'anno che ci sono più possibilità di spostarsi di muoversi di partecipare a incontri a capienza piena ci aspettiamo una partecipazione maggiore e per questo motivo che abbiamo realizzato tantissimi incontri anche in contemporanea è chiaro che non si potrà seguire tutto però si dà così la possibilità più persone possibile di seguire qualcosa del feste di partecipare